Presidente, siamo pronti con la benedizione del Papa e con le bellissime parole di Bergoglio e con la giornata di oggi si parte con questo countdown che vedrà il Trentino protagonista. Sì, siamo pronti qui in Piazza San Pietro. Naturalmente ci auguriamo che la benedizione del Papa possa favorire un grande evento in Trentino. In primis aspettiamo la neve, poi aspettiamo i 3.000 atleti, poi aspettiamo 78 gare, poi avremo il pubblico, avremo tantissime opportunità sostanzialmente per rilanciare l'immagine del Trentino. Però oggi è stato un giorno estremamente emozionante per me e per tutti quelli che sono stati con me. Credo che Papa Bergoglio ci dia, ci abbia dato in questo momento davvero tanta nuova forza per concludere al meglio la preparazione per essere pronti l'11 dicembre a Trento.